Dopo il paventato ritiro della squadra al suo esordio in Serie B, minacciato ai nostri microfoni dal patron Camilli, qualcosa si muove sul fronte del fattore campo per la Svicat Rugby SD. La ribalta mediatica ha riaperto le trattative con l'amministrazione di Campi Salentina, rea di non aver consegnato il Trevisi nei tempi prestabiliti, cioè entro oggi, per consentire alla squadra di disputare la prima partita in casa contro il Padua Ragusa domenica prossima, complice il maltempo, ma anche in toppi, diciamo così, burocratici barra diplomatici fra comune e società sportive. Ma ancora più stretti i contatti sono con l'amministrazione di Melendugno, dove mancherebbe solo l'allestimento dei pali con l'immediata agibilità del campo. La riserva su quale dei due comuni ospiterà il prossimo incontro si scioglierà solo nelle prossime ore. L'obiettivo è comunque di giocare in casa ed evitare l'inversione di campo col Ragusa, che comporterebbe tre trasferte consecutive lunghe e faticose da sostenere per una squadra che punta la Serie A. In pole position per domenica prossima resta comunque lo stadio dell'Arna, il che potrebbe significare che la Svica sia pronta a cambiare casa, considerata la promessa lanciata dal patron Camiglia ai nostri microfoni appena 24 ore fa. Siamo sperando che ci sia qualche amministrazione che abbia un campo in erba disponibile a cederlo a noi per la partita di domenica. Ma se qualcuno ce lo cede per la partita di domenica, ha la mia parola che io mi trasferisco lì a giocare, perché in questi momenti si capisce quanto un'amministrazione ci tenga ai propri ragazzi. Intanto la squadra si allenerà fino a sabato sul campo del San Pancrazio, mentre il coach Giacomo Fedrigo e il capitano Paolo Doria fanno il punto sulla sconfitta dell'esordio contro il Cus Roma.